17 e 9 rotte, un incremento importante per il turismo a Napoli. Sì, siamo davvero contenti, si stava lavorando da tempo su questo accordo importantissimo tra Gesac e Ryanair nella città di Napoli, un milione di passeggeri in più per il 2017, 17 rotte, un centinaio di assunzioni dirette più altre 700 circa di indotto e soprattutto si consolida sempre di più il ruolo di Napoli in vetta nel sistema dell'aeroporto e quindi come città turistica, culturale di grande movimento, immagino soprattutto giovanile e familiare se consideriamo i prezzi assolutamente convenienti della compagnia Ryanair, quindi siamo contentissimi. Grazie.